no no tu c'è la telecamera sei costruito si caschi se sei pericoloso e non spara eeeh, il greppo no eh c'è qui qua, c'è un montaggio greppo non partiva c'è un montaggio greppo c'è un montaggio greppo eeeh 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 mi ha sbagliato anche Mario hai visto che è tappato qui adesso? un traccia in traffico no no è giù dove la pianta? si ma è tu sei giuto dritto perchè stanno di 15 anni passati secondo me ah dovrebbe essere stata qui come si? ciclocrasse tutti i giorni? no sinceramente no ma noi in passati di là hanno riaperto il Bipark e ora è finito il divertimento è finito